Il Rettore dell'Accademia di Gursa, Michel Barra, e il Presidente della Lega Gursa di Gursa, Leo Battesti, hanno firmato di settembre in Bastia una convenzione che può essere qualificata di storia per il sviluppo di Gursa. O desto predisposito da qui, oramai, l'insegnamento e la pratica di Gursa si vage nel tempo scolare, un'ora settimana tutta la nada, bala di 30 ore. Quest'anno ci saranno più di 7 mila di idee che avranno la possibilità di imparare i scambi. Tutte le regioni di Gursa sono concernate. Una ventina di formatori intervanno nelle scuole. Tutte le scuole riceveranno di nuovo libretti di imparare le bislingue e le mesi in cui scambio. Un'ora più grande, un'ora più grande, un'ora più grande, un'ora più grande, un'ora più grande. E' come la 30 mila di giovani di Gursa si avvicinano la scuole. Buongiorno e benvenuti nella emission Echec e Mat. Oggi, noi vediamo una arma redoutabile, l'echec a la scuola. Rappeliamo, d'abord, il movimento del cavallo della tour. Un'ora più grande, un'ora più grande, un'ora più grande e un'ora più grande. Una prima posizione. Se i Blancs enlèvent loro cavalieri, il Roi Noir sarà allora un'ora più grande, la dame. Il faut quindi enlever il cavallo in attaquando una piace forte, la dame. Il cavallo viene in D4. Echec, il Roi Noir è obliato di cambiare. Il cavallo D4 viene capturare la dame che è in C2. A questo momento, grazie a questo èchec a la scuola, abbiamo raggiato il materiale. Una seconda posizione. Guardate. Io vengono, un'ora più grande e in C5. Il roi viene, il roi rinca, per esempio, il capisce il pion, e i Blancs, a l'aide del loro fos, viendranno capturare la tour in E2. Oggi in nostra rubrica d'Historia, vediamo il primo championio del mondo dei eschecs, Wilhelm Steinitz. Nel 1863, quando il vince un match contro l'uno dei più forti giocatori di Lébiga, o del disco Adolf Andersen. Nel 1883, la giornalità americana e si va già chiamare, Wilhelm Steinitz. Nel 1885, il batte a Ioannis Zuckertort e diventa così il primo championio del mondo figlio in la storia di Iscai. Il perdono gli idoli davanti a Emanuele Lasker nel 1894. Wilhelm Steinitz è considerato come un bambino di Iscai moderno. Il primo aveva sviluppato certi principi di Uiogu parlando l'aspetto gentile di Iscai. In questa posizione, Steinitz, con i Blancs, fa èchec emattando un coup, se servono di l'èchec a la découverte. S Fou F7 Rp2 Fou F5 Rp3 H4 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 H5 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 Grazie.